Purtroppo il Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza non è stato fatto per portare sviluppo all'Italia, ma in realtà per devolvere, dare occasione di ulteriori investimenti alle multinazionali sul nostro territorio, anche a costo di saccheggiarlo e depredarlo sotto il profilo, per esempio, paesaggistico, ma anche sotto altri punti di vista. Il Gap Nord-Sud non è proprio contemplato e quindi tutto questo fa sì che tanti soldi vengano investiti del nostro debito in una direzione che non porterà bene all'Italia. Grazie